Accogliete dunque tutto ciò che fa parte di voi, non per mantenere vive quelle vibrazioni che non vi piacciono, ma per lasciar fluire il senso della vostra esistenza, che non può essere spiegato con le vostre parole dalla vostra mente, ma che semplicemente potete riuscire a vivere e a sentire in voi come un qualcosa di realmente piacevole e reale, perché la vostra vita è reale, mentre molto spesso i vostri pensieri non lo sono, perché si distaccano da ciò che siete e prendono il via su una dimensione che è quella del pensiero, che può portarvi lontano anche da voi stessi. Grazie a tutti.